Rischio contagio al rave party abusivo, scatta l'allarme a maleo nell'Odigiano appena balzata alle cronache per tre casi di variante delta in una cava abbandonata in mezzo alla campagna sono arrivate centinaia di giovani per ballare e per sballare Rischio contagio al rave party abusivo, scatta l'allarme a maleo 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 Delta, delta, da procura di lori, aperto, in chiesta, dai fatti no mask, e il cosso da stanotte a maleo nel rodigiano, come da giù di si regista un fogola e un cover con variante. Delta, con variante Delta, delta, da procura di lori, aperto, in chiesta. 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.